Beh, Chun, che te ne pare? Lui è molto lento, i suoi riflessi sono pietosi, miseramente coordinati. Fisicamente le sue condizioni sono un disastro. È inapetuoso ed è goffo. Si muove come un babuino, con due piedi equini. Tuttavia, c'è una fievole luce di speranza nei suoi occhi. Io penso di poter fare qualcosa con lui.